Il turno inaugurale del girone B di prima categoria, il Santo Maso di Perano ospita una sfida tra due matricole che non vogliono fare da comprimarie. I padroni di casa di Mister D'Amelia, ripescati d'ufficio nell'estate appena lasciata alle spalle, tornano a respirare un campionato più confacente alla sua tradizione calcistica, anche se non partono nel plotone delle favorite, gruppo che invece comprende la Faresina tornata in prima categoria dopo qualche stagione di esilio volontario. Per entrambe va detto che le storie pallonare del passato fanno riferimento a società diverse che nulla hanno a che vedere con quelle attuali se non per la presenza di qualche dirigente e calciatore. La truppa di Mister Mancini comincia a prendere il controllo delle operazioni e va progressivamente a presidiare la metà campo giallo-verde messa in discussione in diverse occasioni. Una delle più temibili è sicuramente la prima con il gran destro dalla distanza di Difulvio che al settimo induce Gianrocco a distendersi per disinnescare la sfera a fondo campo. Passano quattro minuti e stavolta è l'avanzato D'Angelo a cercare l'affondo dalla media distanza, ma il suo tiro è da dimenticare. Del Perano ancora nessuna traccia significativa. I Faresi al contrario ci riprovano con Liberati che al ventunesimo si fa spazio al limite d'aria da posizione abbastanza centrale, ma anche per lui lo specchio della porta rimane un miraggio. Il monologo infruttuoso della Faresina si conferma anche a ridosso della mezz'ora. In questo frangente è Capetola, sostituto dell'indisponibile Rapino, a cercare fortuna in zona d'attacco con un tentativo di pallonetto sull'uscita di Gianrocco. La sfera si impenna ma rimane a centro area con Liberati ben appostato, arginato a fatica dal pacchetto arretrato giallo-verde. Il Perano fa quel che può per imbastire una manovra accettabile e produrse a sua volta in qualche incursione dalle parti dell'inoperoso Di Prinzio, che rimane tale anche dopo il tentativo dalla distanza di Tucci, che si spegne abbondantemente a fondo campo. L'ultimo sussulto del primo atto è un episodio da Moviola che interessa la squadra di casa. I ragazzi di Mister D'Amelia invocano infatti il calcio di rigore in seguito al contatto dubbionare a che coinvolge Sferrella e Marrone, ma il signor Ungureano di Lanciano non ravvise irregolarità e fa proseguire. Alla ripresa dei giochi, il copione è pressoché immutato con gli ospiti a condurre le danze e locali a fare opera di contenimento. Dopo tre giri di lancette, la zampata di Serafini sull'imbitante a retropassaggio di Liberati viene abbrancato da Gianrocco senza eccessive difficoltà, ma l'estremo peranese non può gioire nelle battute successive. Allorquando il direttore di gara va a sanzionare il contatto in area tra Pizzi e Liberati lanciato a rete, al culmine di una caparbia iniziativa dalla corsia Mancina, dal dischetto, e lo stesso calciatore ex-bucchianico ad incaricarsi della battuta che non lascia scampo all'incolpevole estremo peranese. Sferrella, abbastanza evanescente in questa gara d'esordio, prova a dare la carica ai suoi, ma gli spazi sono veramente pochi e il muro difensivo farese fa buona guardia senza grossi rischi. Al diciottesimo il suo destro a rientrare non riesce a centrare lo specchio della porta per buona pace di Di Prinzio, spettatore non pagante della contesa. Sull'altro versante la gara si indirizza inesorabilmente verso i titoli di coda tinte biancazzurre. È il minuto 23 infatti quando arriva il raddoppio della tranquillità agriffato da capitani Federico, l'esto ad avventarsi sulla pennellata da fermo di Capetola e ad indirizzare la sfera alle spalle di Gianrocco. Il perano colpito nuovamente potrebbe riaprire i discorsi a ridosso della mezz'ora, ma la dea bendata ha voltato le spalle a Giallo Verdi con la retroguardia farese che si salva miracolosamente sulle irruzioni ravvicinate e a botta sicura di Fontana e di Sferrella. La gara ormai senza storia si chiude di fatto al 34esimo quando i faresi provano a centrare il tris con il neo entrato Cellucci che alla prova pratica non riesce nell'intento. Poco male perché il fare inaugura il ritorno in prima categoria con una convincente affermazione in trasferta. Perano da rivedere all'opera con un avversario di pari livello. Mister Aldo Mancini, buona la prima, chi ben comincia è a metà dell'opera. Diciamo qualche proverbio che è ben augurante per questo inizio di stagione della faresina. Una gara non bellissima ma tre punti d'oro su un campo che sicuramente sarà ostico per tutte le avversarie. Assolutamente, grande vittoria, importantissima su un campo molto difficile. Perano come sapevamo all'inizio è una squadra ben organizzata, una squadra fisica che sul suo campo difficilmente perderà punti. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo tenuto la palla ai primi 60 minuti, un po' stesso importante. Poi siamo riusciti a sbloccarla e una volta sbloccata poi a campo aperto abbiamo avuto altre opportunità per chiuderla. Una squadra leggermente rimaneggiata in attacco. Sì, oggi c'è l'assenza di Pasquale Rapino che è un giocatore molto molto importante per noi. Però chi ha giocato ha fatto il suo, ha fatto. È un grosso vanto e come avevo già anticipato durante la settimana e durante la fase pre-campionato il nostro vanto è quello che abbiamo su 20 persone, oggi 17 di Fara. Adesso si torna nel vostro fortino, quello di Fara. Sì, adesso avremo una settimana per lavorare più serenamente, per metterci a posto, per migliorare quelli che sono alcuni difetti che ci portiamo ancora dietro. Però, come dicevi tu, chi ben comincia è a metà dell'opera. E il Perano, infine, mister, come l'ha visto? Il Perano è una buona squadra, solido, dietro, con a centro campo un paio di elementi importanti. Io conoscevo Bruno Sferrella, attaccante di categoria, anche il 7, molto bravo, veloce, l'8, se non erro, Fontana, un fuoricuoto di livello. Perano è una buona squadra e si salverà tranquillamente. Leonardo D'Alonzo, presidente onorario del Perano. Oggi gara inaugurale di campionato, non è andata benissimo, ma bisogna considerare anche il valore dell'avversario. Si tratta della Faresina, una delle squadre meglio attrezzate, quindi guai a fasciarsi la testa prima del previsto. Sì, infatti, parto dalla premessa che la Faresina, secondo me, nonostante sia una neopromossa come noi, vanta un organico di categoria. Infatti, specialmente nei primi 20-25 minuti, abbiamo fatto fatica a prendere le misure. Infatti, il nostro allenatore è stato costretto a cambiare modulo e adeguarsi al loro gioco. Mi ha molto colpito la loro coppia centrale, una coppia abbastanza vigorosa come coppie centrali a vecchi tempi. Un centrocampo molto tecnico, giovane, un attacco esperto che lacunava anche dell'assenza di rapino. Per me questa è una grandissima squadra. Dispiace che la partita sia stata sbloccata da un episodio a dir poco dubbio che, come ho detto prima, non vuole essere una scusante perché la vittoria della Faresina ci può stare tranquillamente per i valori che hanno rimostrato in campo. Però sbloccare una partita con un episodio così, insomma, non tanto per il gol preso ma per il nervosismo che ha creato all'interno della nostra squadra, un pochino ci ha penalizzato. Però, come ho detto, meritano molti complimenti e secondo me questa sarà una squadra che alla lunga dirà la propria per i quartieri alti. Adesso il calendario offre l'occasione di rimediare già dal prossimo turno. Voi però sarete impegnati in trasferta, giusto? Sì, andremo a Palena, che è un'altra squadra di categoria che viene da campionati di altissimo livello. Giocheremo una partita su un campo in erbo, per cui avremo anche un'altra difficoltà in più. Ma quello che è successo oggi a livello di risultato non ci preoccupa. Siamo convinti che abbiamo tutte le carte da giocare per quanto riguarda una salvezza e per cui invito l'ambiente, i ragazzi a rimanere sereni perché la prima categoria è questa. È fatta di sconfitte casalinghe, di probabili vittorie in trasferta. Quindi è un campionato che si basa molto su episodi e su equilibri minimi. Per cui l'importante è continuare ad allenarsi come abbiamo fatto dal 12 di agosto e andiamo avanti così. In tribuna c'era Pasquini, ancora infortunato, ma dovrebbe tornare disponibile a breve. E poi abbiamo visto anche Lando Valerio che non è tesserato del Perano, però chissà potrebbe ripetersi con la coppia gol dell'anno scorso insieme a Bruno Sferrella. Allora, per quanto riguarda Pasquini, Emilio è un nostro tesserato e lui è reduce da un lunghissimo infortunio. Ho corso lì con la Val di Sangro in promozione. Lui necessita di adeguato tempo di recupero, per cui come d'accordo i presi con lui lo lasciamo tranquillo di recuperare. E quando sarà in piena funzionalità fisica sarà sicuramente uno che darà una mano importante, specialmente in prima categoria. E Lando Valerio nulla. Lando al momento è ancora svincolato. Come ci disse abbondantemente sin da maggio, lui ha deciso di cercare un'altra squadra per esigenze personali. E' ovvio che il ragazzo colgo l'occasione anche per ringraziarlo perché in due anni con noi c'è stata una grande mano, sia in terza che in seconda, è stato uno degli artifici principali della nostra cavalcata. Per cui come si dice mai dire mai, però al momento per rispetto del gruppo e dell'allenatore è giusto andare avanti così, con i ragazzi che abbiamo e non vogliamo elementi distrattivi che possano derivare dal mercato sin da una prima giornata, che mi sembra alquanto riduttivo e fuori luogo. Dario Di Federico, ovviamente il volto della felicità per questa vittoria non scontata su un terreno di un'altra matricola, ma ovviamente la vostra squadra, possiamo dirlo senza nasconderci, un tantino di categoria superiore a questo Perano. Buonasera a tutti. Oggi sicuramente sappiamo che era una partita molto difficile, una partita maschia. Non conosciamo bene le caratteristiche del Perano né i loro giocatori. Sicuramente sul campo penso che abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Non penso che loro abbiano avuto occasioni nitidissime per fare gol. Sono sicuramente soddisfatto del lavoro dei ragazzi, sia del mister che dei ragazzi, in questa prima parte della stagione. Quindi abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Adesso cominciamo a pensare alle prossime partite sin da domenica con il Real Casari in casa. Buone notizie anche dalla difesa, imperforabile in questa occasione. Sì, la difesa ormai è una difesa storica, fatta di quattro quinti di Faresi che giocano insieme ormai da anni. Quindi su questo siamo più che tranquilli. Sicuramente il nostro avanti è che oggi i nove undicesimi sono residenti a Fara. Quindi penso che questa sia la cosa più importante per portare avanti il nostro progetto. Bruno Sferrella non è sicuramente il volto della felicità oggi perché non è andata benissimo. Ieri sera forse sì per altre gare, ma oggi col Perano purtroppo per lui no. Sì, ciao Antonio, buonasera a tutti. Oggi è andata come è andata, hanno vinto loro 2-0, partita dura, maschia, combattuta. Sarà una bella partita di prima, il nostro esordio in prima, non so se pure a loro è il loro esordio. Comunque è lunga ancora, c'è tanta stata da fare, ma noi siamo pronti. Ci faremo trovare pronti più in là, senza dubbi proprio. Lo dicevo anche con il presidente D'Alonso, la Faresina è una delle squadre meglio attrezzata. Pur essendo una neopromossa, quindi diciamo una sconfitta, non dico indolore, però non può far tanto male. Sì, sì, ma noi già lo sapevamo, è una bella squadra, bella tosta combattuta. Già l'anno scorso, infatti, hanno fatto benissimo in seconda. Ci aspettavamo una partita del genere, ci può stare, ci può stare. Vediamo di fare meglio la prossima. Complimenti a loro, comunque. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti.